L'idea di fare questo video viene da un video recentemente fatto da un noto divulgatore e youtuber che, mi vuole dirlo, si è sbagliato. E da PhD a PhD, visto che io ho un dottorato nella materia di quel video, cioè l'intelligenza artificiale, credo di essere la persona giusta per poter sistemare quel piccolo, ma grande errore, che lui ha fatto in uno dei suoi ultimi video. Per la precisione, il mio dottorato era in computer vision, ma si usano tecniche di intelligenza artificiale prima che diventasse mainstream, tipo dal 1999, ma quella è tutt'altra storia. Il video a cui faccio riferimento è un video di Barbascura fatto nel secondo canale, questo qua. Adesso prenderò uno spezzone da quel video per andare dritto al punto. Tuttavia, il link al video completo lo trovate qui sotto in descrizione. Ascoltiamo. Il deep learning, come ormai saprete, è una forma di machine learning che si occupa di creare sistemi che apprendano e migliorano le performance in base ai dati che utilizzano. Ma c'è un piccolo twist alla storia. È diverso dal machine learning, perché lì c'è bisogno di etichettare tutti questi dati. Il deep learning è molto più figo. Lui non ha bisogno di qualcuno che etichetti un bel niente, gli passi immagini, testi o quant'altro e lui apprende da solo e le mette nella categoria più opportuna, secondo lui. Dunque, sebbene il deep learning sia più figo di machine learning, non sono due cose nette e separate, ma non è questo il video in cui spiegherò la differenza tra questi due termini. Ad ogni modo, no, il deep learning non impara da solo. Non è una macchina pensante che riesce a fare gli esercizi di matematica senza che qualcuno glielo spieghi. Ci sono algoritmi che vengono addestrati senza supervisione. Quindi, effettivamente, come dice Barbascura, senza etichette, ma quello serve per altri scopi. Con il machine learning e quindi di conseguenza il deep learning, alla fine il conto si paga. E le etichette, quindi la supervisione, gliela devi dare. Fine. Ora, non faccio una colpa a Barbascura. Lui ha un grande alibi. Sono anni che dice a noi spettatori che spiega le cose male. Lo dice in quasi qualsiasi video. E quindi, vabbè, per quello che ha detto lui, la possiamo chiudere qua. Possiamo, ma non lo facciamo. Perché questo errore di Barbascura mi dà l'opportunità di farvi vedere come un algoritmo figo di machine learning, in particolare deep learning, viene addestrato. E visto che molte di queste metodologie sono pubbliche, le possiamo spiegare in un video. Attenzione però, ci sono tanti, ma tanti dettagli tecnici e implementativi che salterò o comunque andrò veloce, ma è importante toccare i punti principali. In particolare, vediamo come viene addestrato l'ultimo modello di Meta, Lama 3. Il loro paper è scaricabile e accessibile a tutti, anche a te, che stai guardando questo video. E il link, come al solito, qui sotto in descrizione. Assieme ovviamente a quello di Barbascura, così stanno vicini vicini. Lama 3 è un modello multimodale. Questo significa che accetta diverse tipologie di input, tra cui il testo, ma accetta anche immagini, video e audio, senso di audio di persone che parlano. La maggior parte del paper, tuttavia, e comunque della metodologia del paper, si concentra su come viene addestrato la parte che riguarda l'analisi del testo. E quindi io mi focalizzo solo su quello. La fase di addestramento è suddivisa in due parti. Preaddestramento è quello che loro definiscono post-addestramento. Usano questo termine, ma di solito questa fase viene chiamata fine tuning. Credo che il termine italiano più idoneo sarebbe mettere a punto, affinare, però visto che a me non piacciono nessuno di due, utilizzerò i termini post-addestramento e fine tuning in maniera intercambiabile. Iniziamo con la fase di preaddestramento, ma a schermo state vedendo il termine in inglese, anche perché se lo preferisco di più. La prima cosa che fanno è di prendere i dati da internet, applicano delle metodologie per rimuovere quelli che loro considerano contenuti poco sicuri, e in questa parte del paper non ci sono molti dettagli. Dicono che Meta ha degli standard di sicurezza che vengono applicati e il fatto che non ci siano dettagli non è niente di strano, visto che questi modelli sono sempre più potenti, comunque si dice perfumanti, grazie e soprattutto alla qualità dei dati. Il segreto sta proprio là. I testi presi da internet sono per la maggior parte in inglese, ma non solo, comprendono un totale di 176 lingue. Questo non vuol dire che il modello è capace di capire e comunque di scrivere bene tutte queste lingue. E il motivo di questa cosa è molto semplice. Questo perché ci stanno molte lingue sotto rappresentate nel dataset. Pensate alla quantità di documenti online che trovate in inglese e quelli in norvegese. Non c'è proprio paragone. Una volta raccolti questi dati, cosa addestrano? Addestrano un'architettura basata sui transformer, che non è molto diversa da quella di lama 1 e lama 2. Ci sono alcuni accorgimenti, ma siamo più o meno là. Infatti lo stesso articolo dice che il guadagno di performance, come vi dicevo poco fa, sta nella qualità dei dati. Questa fase di pre-training è suddivisa in tre sottoparti. Iniziale, long context e annealing. Nella fase iniziale, semplicemente, pre-addestrano la rete utilizzando una piccola porzione del dataset e usano una finestra di solamente 4.000 token. Il modello può supportare fino a 198.000 token, ma allora iniziano con 4.000. Poi, infatti, nella parte di long context, come dice il nome stesso, usa contesti più lunghi fino ad arrivare appunto a 128.000 token. Nella fase di annealing, quello che fanno è piuttosto tecnico e cerco di fare del mio meglio per semplificarla. Prendono una porzione del dataset che loro reputano di alta qualità, soprattutto quello che riguarda codice, proprio codici di programmi, e problemi matematici. E li ridanno impasto alla rete in modo da migliorare la qualità nel capire e interpretare questi testi. Questo perché nelle enorme dataset che hanno raccolto, solo una piccola porzione, che comunque parliamo sempre di milioni di token, è considerato di alta qualità. E quindi, perché non ripassare? Questa è la fase di pre-training. Ma a cosa viene addestrata a fare la rete? Cioè, qual è il compito che gli viene detto di fare in questa fase? Certo, abbiamo capito che il testo gli viene passato, ma per far cosa? Il compito che le viene assegnato è quello di predire la parola successiva. Nella fattispecie, dati dei token, quindi dei testi, attenzione non confondere testi dai prompt, vengono passate dei testi e una o più parole vengono mascherate e la rete deve capire quali sono state le parole mascherate. Perché questa fase di pre-addestramento è così importante? Perché in questa fase la rete capisce come si formano le parole. In gergo tecnico si dice che la rete impara una rappresentazione di come le parole sono composte, imparando la struttura del linguaggio fondamentalmente. Questa parte è effettivamente come dice Barbascura, è senza supervisione. Predire una parte dell'input mascherato è una cosa che comunque si fa in machine learning da diversi anni. Basta cercare denoising autoencoders oppure in painting per quanto riguarda le immagini. Ma qual è il problema? Sebbene la rete abbia imparato a capire i testi, non è in grado di fare quello che vede a schermo. Cioè dato un prompt non riesce a rispondere. La rete deve apprendere cosa rispondere dato un certo prompt. Ecco perché poco fa vi ho detto che i testi passati non sono prompt. Sono semplicemente testi. Non molto diverso da prendere delle pagine che ne so da Wikipedia, nascondo qualche parolina e faccio apprendere alla rete le parole che io gli ho mascherato. Quindi una rete raddestrata in questa maniera, non supervisionata, non è in grado di saper rispondere ai vostri prompt. Ma comunque ha imparato a capire la differenza per esempio tra la E accentata e la E senza accento. A questo punto passiamo alla parte di fine tuning che è quella che si occupa a far diventare questa rete a predestrata un vero e proprio chatbot. Infatti c'è una sezione del paper che si chiama appunto chat dialog format. E questa parte, diciamo dell'addestramento, è completamente supervisionata. Avete capito bene? Supervisionata. Ma non ci sono etichette perché questo non è un modello discriminativo. Cioè non deve distinguere tra un cane e un gatto, ma deve generare dialoghi. E i dialoghi li apprende da dei dialoghi. Cioè dove pensate che apprendeva CiaGPT questo genere di conoscenza? Di certo non da topogigio. E come funziona questa parte di addestramento? Mi sa che sia giunto il momento di prendersi una pausa e lo vediamo dopo la singola. Benvenuti e ben ritornati ai pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi metto una pezza alla scienza brutta di barba scura mostrandovi come viene addestrato un modello generativo di intelligenza artificiale come per esempio CiaGPT. Detto dalle parole di Meta in questo paper. Per favore supportate il mio lavoro spolliciando questo video e se ve lo siete dimenticati non ci sono problemi. Il tasto per iscrivervi a questo canale si trova proprio qui sotto. Inoltre visto che ho impiegato circa due settimane per mettere insieme il materiale per fare questo video, visto che il paper è lungo quasi 80 pagine se volete offrirmi un caffè virtuale lo potete fare tramite Coffee. Il link lo trovate qui sotto in descrizione. E adesso come direbbe barba scura continuiamo con il riassuntazzo di come viene addestrato in particolare Lama 3. Quindi come fa una rete neurale a diventare un chatbot? Come fa la rete ad acquisire la capacità di diventare effettivamente interattivo? Ed è qua che vengono utilizzate delle persone come me o come te, quindi degli umani, in particolare degli annotatori. Vengono fatte delle domande al modello preaddestrato con diverse interazioni con l'utente. Le persone ispezionano, proprio le vedono le risposte e quindi a questo punto possono accadere tre cose. Banalmente accettano la risposta data dal modello oppure la scartano, oppure ancora la modificano. Ma la risposta scartata non viene effettivamente rimossa dal dataset. No, 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 assolutamente. A queste risposte vengono assegnate dei bondeggi e quindi per ogni risposta del chatbot abbiamo almeno due punteggi. La risposta accettata è quella rifiutata e ne possono avere anche un terzo punteggio per le risposte che sono state fisicamente, proprio praticamente, modificate da un annotatore. Adesso al modello preaddestrato viene preso e viene fatto un passaggio di fine tuning che si chiama reward modeling, ovvero modello di ricompensa. In pratica viene addestrato a scegliere la risposta preferita degli annotatori e questo processo è supervisionato, come avete visto, perché qualcuno ha visto e ha detto questo è buono e questo è cattivo. La rete non può imparare da sola questo concetto e questo è anche il motivo per cui un singolo individuo come me non può addestrarsi un chatbot da solo benché la tecnologia per farlo sia disponibile da diverso tempo. Cioè dovrei catalogare migliaia e migliaia se non addirittura milioni di interazioni e dire questa sì e questa no. Oppure peggio, dire aspetta, 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 questa te la modifico io. Cioè, è impossibile che io possa farlo da solo. Meda ha le risorse invece. Ma questa fase addestra la rete a dare dei punteggi non a dire come si danno appunto le risposte come c'è GPT. Infatti successivamente viene fatto un ulteriore passaggio di post addestramento chiamato Direct Preference Optimization ovvero ottimizzazione diretta delle preferenze dove la rete viene effettivamente addestrata a generare le risposte preferite dagli annotatori. E' in questa fase in cui il modello effettivamente inizia a imparare a generare questo genere di testi e quindi a diventare un chatbot. E questi passaggi non vengono fatti una sola volta ma a diverse volte. Non allo stesso modello ma a modelli diversi. Questo perché, come dicevo in questo video la componente randomica cioè quindi casuale insida in machine learning esiste da sempre e addestrando lo stesso modello non si ottiene sempre lo stesso risultato. E quindi cosa ne fanno di tutti questi modelli addestrati? Ne fanno una media. Questa tecnica infatti viene chiamata Model Averaging ovvero media dei modelli e lo si fa per prendere in qualche modo il meglio delle performance di tutti i modelli per ottenerne uno che sia migliore della somma di tutti i modelli. Pensate che sia finita qua? Dal punto di vista dell'addestramento sì almeno per quello che riguarda il testo poi ci sarebbero le immagini video e audio come vi dicevo però diciamo non abbiamo il tempo in questo video. Tuttavia quello che vorrei sottolineare è che il dataset è stato fatto in modo tale che riesca ad essere più accurato soprattutto anche a generare codice. Quello che fanno per il codice e anche problemi di matematica è che prendono il modello pre-addestrato e non quello post-addestrato e lo addestrano con solamente il codice. Questo fa sì che il modello che viene chiamato Code Expert ovvero esperto di codice sia capace di generare diversi codici in diversi linguaggi di programmazione e la domanda che mi sono posto è ok abbiamo questo Code Expert come viene integrato all'interno di tutto l'AMA? Beh questo nell'articolo non era chiaro comunque non lo è stato chiaro per me ma comunque credo che faccia parte di quella fase che vi dicevo poco fa del model averaging. Ora che abbiamo fatto tutto questo come facciamo a sapere se il modello è migliore di quello di prima o meglio come facciamo a sapere se l'AMA 3 è migliore degli altri tipo che so c'è GPT, Cloud o tutti quelli che ci stanno intorno. Qua le cose diventano leggermente più fumose. Sul paper di lama si fa riferimento a quello che loro chiamano model quality ma io non ho capito cosa sia questa model quality. Diciamo che in genere ci sono diversi modi per valutare le performance e questo lo si fa su dataset specifici che vengono chiamati benchmark così si possono effettuare dei confronti diretti con gli altri metodi. Inoltre questi benchmark che alla fine sono dei dataset con delle prompt e risposte che insomma ci aspettiamo non devono essere utilizzati in nessuna fase dell'addestramento. Se il benchmark per esempio è quello di superare un esame allora è relativamente facile capire se il modello sta sbagliando oppure no. Se per esempio la domanda è qual è la piazza figa di Londra con gli schermi giganti e la risposta che ci dà il chatbot è Times Square quando uno pensa a Londra pensa a Times Square è facile capire che ha sbagliato. Tuttavia se gli facciamo fare dei riassunti oppure gli facciamo generare del codice allora qua valutare se è buono o no è un po' più complicato. Si può utilizzare qualcosa che viene chiamata perplexity che misura la probabilità di ogni parola di essere scelta da un determinato large language model oppure usiamo un'altra LLM che valuti la qualità delle risposte date dal nostro LLM. Per esempio se voglio valutare se Lama sa scrivere bene il codice in Python posso utilizzare il Code Expert che ho destrato poco fa per valutare se Lama sa scrivere il codice oppure no. Perfetto Pinguini per oggi è tutto ovviamente ci sarebbe molto di più da dire però credo che questo video già sia piuttosto lungo e credo che sia meglio concludere qua. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima ciao Kilo